Il cartello recita Stato della Palestina, autorità di confine. Siamo al valico di Rafah che collega la striscia di Gaza all'Egitto, un passaggio che da oggi torna sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese. È il segno più evidente della fine del conflitto interno con il partito armato di Hamas, che da un decennio domina la striscia. Due milioni di abitanti che tirano avanti tra periodi di guerra e tregua armata con Israele. E ad Israele danno accesso i varchi di Erez e Kerem Shalom, anche questi riconsegnati all'ANP. Un risultato ottenuto grazie alla mediazione dell'Egitto ed ecco che il ritratto di Al-Sisi viene innalzato al pari di quello del presidente ANP Abu Mazen in questa giornata di celebrazioni. Oggi è un gran giorno nella storia della Palestina, dice Mohamed Hinaoui, il capo delle guardie di frontiera a Rafah. La legalità è ritornata, come pure l'unità di governo. Ora siamo sotto un unico governo guidato dal presidente Abu Mazen. Ringraziamo l'Egitto per i suoi sforzi. E funzionari egiziani stanno controllando che tutto vada per il verso giusto, secondo gli accordi di riconciliazione, che prevedono che ora aspetti all'ANP il pagamento delle guardie confinarie. Pur sempre un alleggerimento per le casse di Hamas, che deve mantenere una milizia di uomini armati stimata intorno alle 25.000 unità. Uno dei motivi per cui Israele guarda con sospetto a questa ritrovata intesa nel campo palestinese.